Vuoi sentire una canzone famosa del mio paese? Ma che state facendo, scusate questa musica! Tarek, tutto sta molto! Stai bene con quella giacca? Io devo rinnovare sempre, Tarek. Io mi sfasterei, mi vorrei sempre dare le quali. Lassimo, tu non si vada a fare niente! Io mica rischio di perdere il mio lavoro per fregare a voi. E si verrebbe subito a sapere. Ehi, calma, calma, che è successo, Rishi? Il tuo avvocato a telefono non risponde in due giorni. Come non risponde? Non c'è, lui non c'è. E' un genio! Ha rotto l'avvocato! Ma sei scema a fare così cosa a telefono, ne? Può mettere in dei casino pure a me! Non lo posso fermare, io devo condimare. Tu? Ecco il mio padre. Me la porto io alle persone. Ci paremmo per rать su Mamma! Faria! dockare a te di! Maria! Tro Time di vac novels Perlai Cattolico Perlai Di rigiditura